Ciao a tutti, mi chiamo Francesco Ramalli e ho lavorato nel campo dell'educazione per quasi 20 anni. Io penso che le sinergia sono molto importanti per le scuole e soprattutto ora, durante questa crisi internazionale, siamo più concentrati su questo. Sono qui per ringraziare la Università di New York di Florence per un'idea incredibile per realizzare un progetto pilota. Questo progetto è molto importante per i nostri studenti e i loro studenti. È solo un progetto pilota, ma stiamo pensando di estendere questo nel futuro, stiamo pensando nel futuro. Grazie. Questa è Laura Tarabusi, da New York di Florence. Tandem virtuale, cosa è? Studenti dell'inglese e dell'italiano si preparano per praticare l'inglese e l'italiano. E, più importante, si sviluppano le competenze interculturelle. Comunicative competenze. Comunicative competenze sist coefficienti. Comunicative competenze A? Buongiorno a tutti, sono Sivana Matonti Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti.